F è la nuova piattaforma dei festival, F vuol dire Europe for festivals, festivals for Europe e è un invito a tutti i festival in Italia a promuovere l'eccellenza artistica e di sottoscrivere una application per far parte di quella piattaforma dei festival europei di tutte le arti, musica, danza, festival di filosofia è un'iniziativa che vuole promuovere che l'Europa non è un'Europa dell'economia o è un'Europa di soldi soltanto ma soprattutto un'Europa di cultura e di cittadini che fanno parte dell'attività dei festival in tutti i membri state dell'Unione Europea.